Ah, mancano due smeraldi e poi racconto due sm- Ahia, ma, i miei smeraldi, non so cosa fa- Ma che stai facendo, ma ma che- Ma che- Ha, non sa che c'ho le croc 3.000 Ok, questo qua sta volando nella lobby Voglio far vedere un item che nessuno usa E che su me è un oggetto un sacco sotto valutato Ma prima, come sempre, facciamo fare la prima rush Upp Uh, bianco, no! No! Se ne dico lasciarlo vorrei farmi tanto prot Con calma, fratma Vai in alto, apposto Perché? Non ho spaccato il letto Vai giù nel void Vabbè, uccidere un'altra volta GG, dice E addio spawn prot Toccami! Ok, allora, adesso che abbiamo fatto fuori il bianco Posso andare tranquillamente ad ottenere questo item Che penso sia molto sottavolosato Anzi, estremamente sottovalutato Perché molti dicono che fa schifo Però io lo penso al contrario Adesso vi dimostrerò Comunque, mentre ditemi nei commenti cosa ne pensate di questa pack Della lana, soprattutto Perché ci sto lavorando un bel un po' Che rilascerò soltanto dopo che ho raggiunto 5.000 iscritti Quindi portatemi 5.000 iscritti Ok, adesso compriamo l'item OP che nessuno compra Ciò è speed Spendiamocene 4, va E 4 bridge egg Adesso andiamo a farci il letto giallo Rapidamente Ora spediamoci un attimo E andiamo a raggiungere il giallo Perché molti dicono che la speed fa schifo Perché... Non lo so perché Però è molto più perché Uno ti aiuta a fare le combo molto più facilmente Infatti per questo che il suono di buffe tutto C'è la speed E due ti aiuta a raggiungere posti molto più velocemente Ora guardate che ho composto per provare Non mi può toccare Non mi può toccare Ora c'è l'ultimo rosso che è laggiù Beviamoci una speed Free jag E raggiungiamola al centro Vieni qua rosso Non puoi scappare Non mi puoi fuggire C'ho speed Sono molto più veloce di te Guarda Preso in combo Letteramente preso in combo Non può fare niente Questa è la speed È la speed letteralmente È OP E questa mappa qua è un po' il più difficile da vedere la speed Perché gli smeraldi sono anche molto volontani Quindi è un po' così Ok siamo in base blu Ah se ne ho accorto penso Ok Non fare caso a me Voglio combattere Spadiferro Sbrigiamoci al centro Prenderci innanzitutto su diamanti E a meno pronte una trappa Ce la facciamo Oha E ora prendiamoci tutti gli smeraldi che ci sono Oh Pup 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 Ora con tutti gli smeraldi acquisiti Ne torniamo in base nostra Facciamo come prima 4 speed e niente letto Davy che fai Davy Devo speed Ready knockback bro Ok ragazzi Vi ricordate che come l'ultima pack Che avevo fatto dai mille iscritti C'è un salvini con fireball Questa volta invece c'è un Fish Mi sa che mi bevo un'altra speed Così che posso prendere altri smeraldi più velocemente Ok Ender pearl In caso ci butta giù Siamo al sicuro ora Aia Non si è messo a godriggiare Il bro si crede lì il venox Esatto Eh bro Bro E che cavolo Ok facciamo gli bad Si è bevuto la jump Wow Oh beh va bene Bro Speed OP Speed OP Speed OP Speed OP Let's go È la speed È la speed Se non avessi avuto speed Mi avrebbe scombato più facilmente Ma invece c'avevo speed Ti prego Ok Beh Certamente sta venendo a riusciarmi bro Non hai letto Non farlo Azzurro Non far Ti faremo bastare Quattro smeraldi per ora Speed speed Egg egg Ora Quale letto andrò a far fuori Perché letteralmente Questa cosa qua mi garantisce Un letto gratis Tipo adesso Laggiù c'è la base verde no Speed Free jag E free bed Che poi c'è Avere la speed in generale È comodo Perché ti senti più utile Nel senso Perdi meno tempo A posto Grazie per i diamanti Consegna amazon Amazon prime Ora sberghiamoci al centro Finché c'è ancora speed Perché voglio prendermi altri smeraldi Per potermi comprare Altra speed È finita la speed Ecco ora che non c'è la speed Mi sento un sacco lento Mi sta venendo in base rosa Oh no Cosa farò ora Non ho più il letto No Cosa farò La spada di diamante Quit speed Egg E altre due speed Io mi bevo una speed E me ne vado Free jag Il pesce è laggiù Anche lui ceva il pesce Un altro free jag Free bed Ora lo scopo malissimo Con la speed E gg No Ok Cosa vuoi fare Ti faccio un tell in faccia Stai vicino all'estremità Prendi knockback Per favore Grazie C'ho un cuore e mezzo Non penso di farlo fuori A meno che io non faccio qualcosa del genere Poi Così Ancora Viene ancora E un critico A posto C'è che poi Il più col god bridge È ancora più veloce Speed speed Egg Egg Vediamoci speed Bridge egg Ai diamanti Andiamoci i diamanti Andiamo a spenderli in base grigia Grigio Ciao grigio No Fammi spendere i diamanti Per favore Ok A posto No 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 Ha passato male il letto a posto Oh mio dio Ok C'era qua una persona Mi pare Sì Mi sta venendo in base Giù Ok Che era una final Non so perché mi sta venendo in base Però va bene Sta facendo il giallo in tutto questo Che no Non è venuto al centro Ma che Cos'è quel ponte Di a guardarle così Ok aspetta A meno che non era god bridge Tutto quello là Tu accetto Se no Gabrix mi ha insegnato a fare il fast bridge Gabrix Devi essere fiero di me Devi essere fiero di me Fiero di me No Non devi essere fiero di me Vabbè Poco importa Perché noi adesso ci abbiamo Quattro speed E quattro bridge Non ci vuole di camminare Mi prego speed ora Io tipo tiro un pesce Poi non so te Vabbè Fetto Altri quattro diamonds Mamma mia Il nostro Bro 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 Chi sei tu Oh 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 Guardalo guardalo Oh fai il bullo tu eh Guarda che io Guarda che io ho giocato a Io gioco a minecraft Da due mesi Sì è Da uscire un'altra sfida ancora E scappa In tutto questo Mi sto facendo una Whistri Idiot Questa qua me la faccio Senza disguise Perché sì C'ho il bianco vicino Ok No Siamo in questo cabru Ho filato i blocchi Qua malissimo Ok E ora dovrei farli bad Ok Bad fatto Ok no C'è armato una di ferro O sbaglio? Mi sta venendo in base No Ok no 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 Non ho più blocchi No Non posso fare niente Non ho più blocchi Ok Ok c'è un blocco di install Oh mio dio Quel blocco di install ha funzionato Oh mio dio che giocato ho fatto Bro Posso screen Va bene Però in cambio Se stai guardando questo video Lascia like Questo che l'abbia fatto L'ultimo Veloce Veloce Ok Far perdere il letto dal grigio Molto sicuramente Cerchiamo di fermare il grigio Scusa grigio Ti voglio bene GG Ma dov'è? Oh Oh ma Ma Non è possibile Cioè io non l'ho proprio visto Assurdo Andiamo a farci un po' di sbalaldi Lup 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 Oh c'è verde Ok È arrivata l'ora ragazzi Speed 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 Egg Ok Siamo invincibili ora Siamo immortali E direi perci una speed Ora Far fuori il verde Il verde mi sembra Quello più pericoloso Dovrà venire per di qua Quindi lo uccido Così che almeno posso Fettarlo in base sua Mi farei cadere giù Oh Cos'è quel letto? Vabbè Tiene sì Speed E repletto Va bene E addio letto Ora lui c'ha un sacco di vantaggio di diamanti Questa cosa non mi piace Però C'è più la speed E quattro uova Per farci una carbonara Ma Oh spede la sua roba Ma non lo lascerò a fare Perché io sono troppo veloce No GG Vabbè Vabbè ragazzi Se vi è piaciuto il video Lasciate il like Iscrivetevi al canale Entratemi in server discord Siamo vicini a mille membri In server discord E 5 mila iscritti Farò pure le feste via E niente Adio ciao E 5 mila iscritti E niente E niente E niente